Ha fatto ingresso direttamente dalla finestra grazie ai Vigili del Fuoco di Arezzo, il Babbo Natale che ha portato i doni e fatto visita ai piccoli ricoverati nel reperto di pediatria dell'ospedale San Donato. Il fatto di far vedere il Babbo Natale a questi bambini e la presenza dei Vigili del Fuoco che secondo i bambini noi vogliamo che sia sempre una figura ben voluta anche partendo proprio da loro. Babbo Natale con la sua folta barba bianca, il suo vestito rosso e il sacco di regali ha così portato gioia e magia ai piccoli pazienti ricoverati in questi giorni di festa. La situazione è quella dei momenti in cui c'è più morbilità, ora adesso non c'è famiglia che abbia bambini che non abbiano febbri, tossi, bronchiti e quindi come potete ben capire anche l'ospedale in questo momento accoglie bambini con patologie di questo genere un pochino più impegnativa che hanno bisogno un po' di ossigeno, di assistenza respiratoria. Abbiamo il pieno di questi bambini, per fortuna sono situazioni acute con una prognosi favorevole, degenza breve di qualche giorno, alcuni bambini invece hanno necessità di ricovero più prolungato, qualcuno dovrà trattenersi anche per il Natale e vediamo un po'. Grazie 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 Grazie